Entra nel mondo l'olato, da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura. Bentrovati al meteo, sabato santo con tempo in gran parte buono ma via via più instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà piuttosto soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Poi nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni sparse, come ci mostra la grafica. Le temperature saranno in aumento, minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 16 e 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole inizialmente, con qualche nube qua e là. Poi con il passare delle ore e dunque verso pomeriggio sera, peggiora con precipitazioni un po' ovunque. Temperature minime sui 10-15 gradi, massime comprese tra 18 e 20. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adice, dove non mancherà un'alternanza tra sole e nubi, con rovesci e temporali ovunque a seguire. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime intorno ai 18-19 all'incirca. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato, Atreviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.